Signore e signori buonasera, iniziano oggi le prove eliminatorie con i primi 5 concorrenti, prove che riprenderanno umani sabato 9 settembre alle ore 10 per proseguire alle 15.30 e alle 20.30 e per concludersi domenica mattina pomeriggio e sera con gli stessi orari. A nome del consiglio direttivo dell'associazione Maestro Adolfo Lipitzer Poco un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro alla giuria, presieduta dal compositore italiano Piero Niro e agli illustri maestri Ole Christian Bon dalla Norvegia, José Francisco del Castillo Molejo dalla Venezuela, Maki Itoi dal Giappone, Riyad Kuzzi dalla Siria, Donald Jeffrey Morris dalla New New Adelanda, Pier Carlo Antonio Sacco dall'Italia. E ancora un augurio di buon lavoro ai pianisti personali dei concorrenti e ai pianisti ufficiali del concorso, Inga Zexer e Eugenie Sinaischi. Vi annuncio quindi il primo concorrente. Delgado Casado Laura dalla Spagna, di 24 anni, eseguirà nell'ordine di Johann Sebastian Bach la ciaccona dalla seconda partita in re minore, di Rodolfo Lipitzer le variazioni sostenuto, veloce e vivace dalla tecnica superiore del violino, di Camillo Sivori lo studio capriccio numero 7 per violino solo dai 12 studi capricci operamenti 5 revisione Fulvio Luciani e di Wolfgang Amadeus Mozart concerto in La Maggiore KV 219 secondo e terzo movimento e cadenza di Gulli. Sarà accompagnata dalla pianista Inga Zexer. Buon ascolto. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti